È uno dei protagonisti della politica e del diritto in Abruzzo ed è stato anche presidente del Consiglio regionale. E che Marcello Russo sia una delle figure più rilevanti della nostra regione, lo testimoniano anche le tante persone che hanno voluto rendergli omaggio oggi nella Chiesa Santa Liberata di Francavilla al Mare. L'avvocato Russo, scomparso a 91 anni, era uomo di formazione politico-culturale socialista, convinto fautore del regionalismo in Abruzzo. A capo del Consiglio regionale, nella seconda legislatura dal 75 al 77, fu lui a firmare il primo statuto della regione, prestando la sua consulenza anche nelle successive amministrazioni alle prese con i processi di riforma istituzionale. Avvocato di successo specializzato nel diritto pubblico e amministrativo, Russo ha esercitato davanti alle più alte magistrature. Con Francavilla al Mare ha sempre mantenuto un legame forte e saldo, al punto da attentare la candidatura a sindaco. Estesi e sentiti oggi tanti messaggi di cordoglio arrivati dal mondo politico e istituzionale. Marcello Russo lascia la moglie Gabriella e i figli Michele e Luisa, i cui volti oggi in Chiesa sono apparsi inevitabilmente chiusi nel loro dolore.